Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà un graduale allontanamento verso sud-est dell'area di bassa pressione che ha causato mal tempo nelle nostre regioni nelle ultime 24 ore. E così il tempo va effettivamente migliorando. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, ritroviamo sia ancora qualche annuvolamento all'inizio del giorno all'estremo sud ma appunto in graduale allontanamento. Nel frattempo però si avvicina una nuova perturbazione alle regioni di nord-ovest. Come precipitazioni ancora qualche piovasco, qualche acquazzone sarà possibile all'estremo sud ma come vi dicevo poi la situazione col passare delle ore andrà gradualmente migliorando. Quest'altra nuvolosità a fine giornata portrà qualche fiocco di neve sulle Alpi. Quindi in definitiva ci attende una domenica discreta con ampie zone di sereno al nord e su gran parte dell'Italia centrale. Al mattino magari ancora qualche nuvola sull'Adriatico. Però al sud ancora molta instabilità, ancora degli acquazzoni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia però di breve durata e rapido allontanamento. Temperature però come vedete non particolarmente alte. Si starà bene, siamo nella norma ma non andremo oltre i 15-16 gradi. Con questo è tutto per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.